Giornata mondiale della terra, ci troviamo presso l'impianto di selezione Pasquinelli di Chima Ambiente Amiu, siamo con la professoressa Ippazia Buccarello dell'Istituto Comprensivo Gian Battista Vico. Professoressa, un momento particolare perché gli studenti sono stati protagonisti di questa piantumazione di alberi, proprio in onore nel rispetto sacrosanto verso la terra, un momento di crescita dei più piccoli accanto alle istituzioni. È stata una giornata bellissima per loro, l'aspettavano già da un bel po' di giorni, infatti poi il tempo è stato un pochettino, però erano rimasti in attesa, speranzosi di poter venire a fare questa esperienza, però è stata un'esperienza bella per loro, perché hanno toccato con mano vedendo tutta questa carta e si sono meravigliati. La trasformazione dalla morte di questi rifiuti in una nuova vita. In una nuova vita, è vero. E si sono meravigliati, siccome mai? Da questo poi cosa faranno? Faranno di tutto. Anche col vetro, abbiamo visto di là che ci sono montagne di vetro, quindi viene di nuovo rifatto altro vetro nuovo. Grazie a tutti.